praticamente in questo video andremo a vedere come andare raga in otr su tutte le piattaforme quindi ps4 ps5 xbox one e xbox series ragazzi per chi non lo sapesse l'otr praticamente è un glitch che ci permette di restare sempre off radar e la gente non ci vedrà sulla mappa ragazzi risulteremo in una posizione mentre invece noi siamo in un'altra con questo glitch potremo anche scambiare veicoli con il glitch della base operativa ragazzi a questo punto i requisiti per fare questo glitch sono il deposito veicoli del ceo il messaggino del caso bogdan quindi ragazzi dovete avere il caso bogdan pronto da fare e a questo punto un veicolo all'interno del deposito veicoli del ceo quindi cosa andiamo a fare ci mettiamo davanti all'entrata nel nostro deposito e andiamo verso l'entrata teniamo premuto la freccia giù raga per aprire in basso a destra il menu della storia e andiamo su franklin prima di entrare stiamo qualche secondo nella schermata nera quindi un paio di secondi e poi dovremmo andare a spammare sul messaggio del blog quindi freccia su e poi spammiamo a o x se giocate su ps e a questo punto capiremo che stiamo facendo tutto giusto se questo caricamento ragazzi è veramente lungo per lungo intendo un caricamento di circa un minuto barra 2 se vi fa questo caricamento lungo quando siete spaurati se siete su old gen quindi ps4 e one spawnerete direttamente in otr volando sotto mappa se invece giocate da next gen ed è un pelo più complicato trovare il timing ma ragazzi io in un paio di tentativi l'ho fatto subito e sapete che non gioco più tanto come prima sono riuscito a pagarmi come con la differenza che su next gen raga quando spawneremo non voleremo sotto mappa e quindi ci baghiamo subito ma saremo all'interno della base operativa e non potremmo uscire ragazzi ma se aprite la mappa vedrete che saremo all'interno del ceo secondo il gioco dentro il magazzino del ceo quindi come facciamo uscire semplicemente dovete aprire il menu di pausa vedrete che siete all'interno del deposito veicoli quindi che siete bagati e andate ad avviare un'attività qualsiasi ragazzi una volta che poi siamo dentro l'attività io ho avviato una delle mie prese tra i preferiti ma non cambia assolutamente nulla voi avviate quello che volete e una volta che siamo all'interno della lobby semplicemente facciamo b o cerchio per uscire dall'attività e una volta che poi spawneremo sbada bam ragazzi finalmente siamo in otr la cosa bella di questa otr che potete anche morire rimarrete lo stesso in otr finché non cambiate la lobby utile per scambiare raga e niente spero che questo video vi è piaciuto lasciate un like lasciate un commento supportate il canale e alla prossima bella regà sbada bam ciao ciao Grazie a tutti